buon pomeriggio amici della rubrica delle scommesse sportive dove analizzeremo i pronostici del martedì martedì che è coinvolta anche la nostra juventus prima di entrare nel merito vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e poi a fine video a lasciare un like o un commento se il tutto sarà stato di vostro gradimento partiamo subito allora la prima partita vede coinvolto il salisburgo contro il celsi siccome il celsi non ha ancora la certezza matematica della qualificazione mi gioco un 2 fisso fuori casa prendendosi prendendoci un bel rischio visto comunque il salisburgo e la sua forma però è chiaro che in questi casi bisogna dare precedenza alla squadra realmente più forte sempre nel girone abbiamo il milan impegnato nella trasferta slava contro lo zagabria e anche qui diamo fiducia al mila poi abbiamo la juve la juve benfica ora io sono tifoso e ve lo dico prima mi gioco il 2 fisso e me lo giocherò anche come singola chiaramente non è una non è un pronostico fatto su logica ma è un pronostico fatto su cuore quindi qui vi do la libertà di scelta poi celtic shaktar donets in questo caso visto la situazione attuale di classifica non andrei oltre ad un entrambe le squadre segnano penso che alla fine sarà una partita aperta dove non staranno a lemosinare le azioni quindi entrambe le squadre segnano lipsia real madrid il real madrid è già qualificato il lipsia no e quindi qua mi gioco un 1 x oppure entrambe le squadre segnano più 1 x secondo me poi abbiamo siviglia copenhagen in questo caso il siviglia deve dare un colpetto di coda alla sua classifica ha fatto un buon risultato a dormont quindi lo vedo favorito siviglia vincente e infine dormont city entrambe le squadre segnano sfruttando il fatto che il city è già qualificato quindi questi pronostici come al solito l'invito è quello di prendere qualsiasi tipo di giocata di scommessa come un gioco perché deve essere tale ci deve diciamo dare l'adrenalina per guardare le partite ascoltare le partite eccetera ma non oltre quindi fino alla fine scommettiamo che le prendiamo ciao ragazzi buon pomeriggio a presto Grazie.